Lezione numero 19 e 20 Lezione 19 Significato dei fiori Lezione 20 Significato dei picche Lezione numero 19 Significato dei fiori o bastoni Asso di fiore dritto Soldi Inizio Nascita Fuoco Ricchezza e benefici commerciali Asso di fiori a rovescio Amore Regali I giorni che scorrono Due di fiori Ostacolo importante nel campo professionale In decisioni dei tempi Due di fiore rovescio Cattive notizie Pettegolezzo Attesa lunga per realizzare i progetti Tre di fiore dritto Il patrimonio familiare Impresa Azione Tre di fiore rovescio Fermo Attesa Fecondità Gravidanza Fermo e blocchi Quattro di fiore dritto Regalo Entrata di soldi inaspettata Attesa breve Piacere inaspettato Compagnia Quattro di fiore rovescio Difficoltà Incontri occasionali Cinque di fiori dritto Unione ideale Amore grande Matrimonio Cinque di fiori rovescio Separazione Avventura sentimentale Sei di fiori dritto Il presente La conquista Dà importanza alle previsioni in atto Sei di fiori rovescio Ambizione Volontà di agire Sette di fiori dritto Piccola vincita o entrata di denaro Superamento Sette di fiori rovescio Inquietudine Superamento dei problemi ma più tardi Otto di fiori dritto Una giovane donna Una ragazza bruna Un bene immobile Un giardino o casa propria Otto di fiore rovescio Egoismo Avarizia Nove di fiori dritto Conferma delle carte che lo circondano Ritardo Pausa Nove di fiori rovescio Il consultante sarà vittima di un inganno Fermi e blocchi Dieci di fiori dritto La famiglia Pressioni Ricerche Dieci di fiori rovescio Il fato Il gioco Blocchi Jack di fiori dritto Sincerità Fortuna Novità Nuova conoscenza Jack di fiori rovescio Mancanza di riflessione Leggerezza nell'agire Donna di fiori dritta Donna buona e amica del consultante Spesso una donna bruna Fascino Gravidanza Dolcezza Donna di fiori rovescio Una nemica del consultante Donna vanitosa Re di fiori dritto Uomo sposato Che è un amico O anche un alleato La volontà e fedeltà Re di bastoni rovescio Un ipocrita Un uomo cattivo Uno che non vuole darsi da fare Contrarietà Jack di fiori dritto Sincerità Fortuna Novità Nuova conoscenza Jack di fiori rovescio Mancanza di riflessione Leggerezza nell'agire Donna di fiori dritta Donna buona e amica del consultante Spesso una donna bruna Fascino Gravidanza Dolcezza Donna di fiori rovescio Una nemica del consultante Donna vanitosa Re di fiori dritto Uomo sposato Che è un amico O anche un alleato La volontà e fedeltà Re di bastoni rovescio Un ipocrita Un uomo cattivo Uno che non vuole darsi da fare Contrarietà Lezione numero 20 Significato dei picche O spade Asso di picche dritto Unione felice Azione inutile Emanazione Asso di picche rovescio Periodo positivo Benefici Due di picche dritto Alleanza Amicizie sincere Due di picche rovescio False amicizie Inganni Tre di picche dritto Cattiva intesa in ogni campo Perdita di tempo ed energia Dispersione Tre di picche rovescio Leggerezza nel ragionamento Indecisioni Quattro di picche dritto Solitudine volontaria Dobuta ad una delusione Quattro di picche rovescio Il consultante deve essere attento È il momento di risparmiare 5 di picche dritto Incidente Perdita Assenza 5 di picche rovescio Dispiaceri Stanchezza 6 di picche dritto Partenza in viaggio Prospettive favorevoli 6 di picche rovescio Danni morali o materiali Malattie 7 di picche dritto Realizzazione di un progetto Presagio favorevole Speranza 7 di picche rovescio Il consultante dovrebbe tener conto dei consigli che le daranno 8 di picche dritto Il consultante sarà calugnato Difficoltà in generale 8 di picche rovescio Sorpresa che non piacerà al consultante 9 di picche dritto Cerimonia religiosa Meditazione del consultante in seguito ad un dolore grande La morte Con carte avvicinanti naturalmente 9 di picche rovescio Il consultante è vittima di un tradimento 10 di picche dritto Cattivo presagio Grande dolore Fine di un periodo Separazione Divorzio Viaggio lungo Attesa lunga 10 di picche rovescio Riuscita Vantaggio Miglioramento Avvicinamento Ritorno lento Jack di picche dritto Rifidare da una persona falsa Il virtuale Menzogne Sorvegliante Jack di picche rovescio Il consultante dovrebbe essere più riflessivo Leggerezza eccessiva Donna di picche dritta Una vedova Lacrime Dono una dura Malattia Una donna dai capelli neri Donna di picche rovescio Donna molto cattiva che non fa del bene al consultante Associata ad altre carte rappresenta la morta fisica Re di picche dritto Magistrato Uomo di legge Uomo divorziato Osare Giudizio Esito Re di picche rovescio Uomo malato gravemente Uomo molto cattivo Bugiardo Falso Unione infelice Grazie di averci seguiti fin qui Se l'argomento ti interessa E vuoi darci una mano Metti un like Iscriviti al canale Ed attiva la campana Riceverai le notifiche Dei nuovi video postati Arrivederci Buona vita